Ben ritrovati su BioBlu, oggi parliamo di storia e di una teoria che nel corso degli anni è stata sia sentita più volte, che però non trova grande successo fra gli storici nella storia ufficiale. E parliamo di Hitler e soprattutto del fatto che si è veramente suicidato quel 30 aprile del 1945. Per rispondere a questo interrogativo ne parliamo con il giornalista e scrittore Franco Fragassi, a cui do il benvenuto. Grazie mille, benvenuto, grazie per avermi invitato comunque. Ecco, parliamo di questa che tu poc'anzi mi hai detto è una nuova verità, una verità storica, no? Lo facciamo partendo dal tuo ultimo libro. Chiedo alla regia di farci vedere la copertina. Eccolo qui, eccolo. Hitler 1945, La fuga, i segreti, le bugie. Scritto appunto da Franco Fragassi insieme a Paola Pentimella Testa. Allora, Franco, intanto ricordiamo un po' quali sono queste teorie che vogliono che Hitler sia scampato alla morte e quando sono nate, quando hanno cominciato ad essere, quando se ne è cominciato a parlare? No, in realtà dopo che avviene un qualsiasi fatto storico c'è sempre qualcuno che lo contesta. a contestare la verità ufficiale, cioè del suicidio di Hitler nel bunker il 30 aprile del 1945, per tantissimi anni sono stati principalmente, diciamo, nazisti molto praticamente, nel senso che dicevano che non è vero che il Führer non si può suicidare ed è sopravvissuto in qualche modo, poi come, perché? Valla a sapere, anche perché appunto quando uno cita, si fa una sua idea, cita una pura teoria, è evidente che non ha nessun valore di nessun tipo storico, quindi nessuno gli ha dato mai peso, ma soprattutto nessuno gli ha dato mai peso perché ci sono alcune cose nella storia che devono essere così, non importa se sono suffragato o meno da prove, non ha nessuna importanza. Hitler doveva essere morto e Hitler era morto il 30 aprile del 1945, punto. Ecco, quindi da quali fonti e da quali documenti parti nel tuo libro per sostenere invece la tesi scontraria, cioè che non è morto, non si è suicidato quel giorno? Allora, io sono entrato in possesso di circa 2000 pagine, ovviamente scritte a mano perché nell'aprile del 1945 a Berlino non è che c'erano le macchine a scrivere, scritte dai servizi segreti sovietici, da quelli che poi sarebbero diventati il KGB, insomma all'epoca si chiamava NKVD, e in queste 2000 pagine c'è una sorta di analisi forense sulla morte di Hitler. I sovietici sono quelli che sono entrati a Berlino, i sovietici sono quelli che sono entrati nel bunker, che hanno ritrovato il suo corpo, e quindi sono gli unici in assoluto titolati a dire qualche cosa, cioè tutti gli altri parlano per sentire o dire, sono gli unici che avrebbero qualcosa a dire. Bene, in queste 2000 pagine c'è anche l'autopsia del corpo, c'è di tutto, e si afferma molto chiaramente, quello non è il corpo di Hitler, che Hitler non era morto nel bunker, una cosa molto semplice, al che ovviamente sono rimasto un po' interdetto, però se lo dicono i sovietici è vero, punto, perché sono gli unici titolati a dirlo, come ho già detto, e a quel punto ho cercato di trovare altra documentazione, perché per quanto mi riguarda non era sufficiente, soprattutto non spiegava assolutamente nulla, cioè il fatto che non fosse morto, magari potrebbe essere morto, ma non essere quello il cadavere, oppure non... e allora ho in questo caso documentazione ufficiale, mentre quella sovietica l'ho ottenuta, l'altra documentazione ufficiale prodotta dall'FBI, da quella che poi sarebbe diventata la CIA, l'OSS e poi dalla CIA stessa, e dall'MISIX, che sono i servizi britannici, migliaia di pagine desecretate, e queste migliaia di pagine raccontano della caccia che costoro facevano a Hitler, allora trovo bizzarro supporre che si dia la caccia a una persona che si creda morta, non ha senso una cosa del genere, non è una caccia di uno, andiamo uno a vedere, no, hanno fatto un'operazione di caccia massiccia, sguinzagliando agenti ovunque, e cercando di ricostruire, non solo di ricostruire quello che era successo, ma di rintracciarlo, e l'hanno rintracciato, perché in questi documenti c'è proprio scritto, trovano i testimoni, incominciano a seguire tutto il percorso, a un certo punto arrivano in un posto e dice Hitler sta qui, punto, mandano un agente, mandano un secondo agente che conferma la cosa, c'è un agente di un altro servizio di credito che dice la stessa cosa, eccetera, eccetera, insomma, non solo hanno la coscienza che fosse scappato, ma anche dove, come e perché, peraltro mi sono anche chiesto se loro hanno affermato che fosse morto, perché gli danno la caccia, allora il maresciallo Zhukov, che era il comandante in capo delle truppe sovietiche che hanno conquistato Berlino, fece una sorta di conferenza stampa, qualche giorno dopo, la presa di Berlino e la resa dei tedeschi, disse noi il corpo Hitler non l'abbiamo trovato, per noi non è morto, lo disse ufficialmente, Stalin quando ci fu la conferenza di Potsdam alla fine della seconda guerra mondiale, tra lui Truman e Churchill in cui si stabilì sostanzialmente la guerra fredda, lui disse agli altri due, anzi agli altri tre c'era anche De Gaulle, Hitler non si è suicidato, non è morto, quindi lo sapevano, molto semplicemente, gli hanno dato la caccia. E questi documenti di cui lei parla, come ne è avvenuto in possesso? Lo posso chiedere? Si può sapere? I documenti sovietici, puoi chiedere ma io posso non rispondere, i documenti quegli altri sono documenti ufficiali, cioè basta andare negli archivi, sono pubblici, ogni tot tempo gli Stati Uniti, il Regno Unito, ma insomma un po' tutti gli antipesi, desecretano una serie di documenti, spesso lo fanno, soprattutto gli Stati Uniti, per motivi che non hanno nulla a che vedere con quei documenti, non è nemmeno una questione di tempo, che ne so, il pubblico chiede a gran voce desecretare i documenti su Kennedy, sull'assassino di John Fitzgerald Kennedy, e loro prendono e desecretano 5.000 pagine, 10.000 pagine di documenti, in questa massa di documenti divenuti pubblici, non ci sono solamente quelli su Kennedy, c'è di tutto, perché magari sono tutti quanti messi nello stesso settore dell'archivio, e quindi questi documenti su Hitler sono usciti fuori in questa maniera, dico questo perché in realtà sia gli americani che i britannici hanno rimandato la desecretazione ufficiale dei documenti su Hitler, sono passati 76 anni, e non mi ricordo ma recentemente, non mi ricordo esattamente quando, ma recentemente hanno deciso di posticipare di almeno altri 10 anni questa desecretazione, che è una cosa che non ha senso, perché insomma dopo 66 anni potrebbero anche dirlo, visto che è morto, si uccida il 45 nel bunker, potrebbero dirlo tranquillamente, non ci dovrebbe essere nulla di segreto, il fatto che invece continuino a conservare i documenti in maniera così gelosa, e magari uno può pensare che lì ci sono scritte cose che non si devono sapere. Ecco, tra l'altro non sarebbe neanche la prima volta che una verità storica, una presunta verità storica, poi viene cambiata da, appunto, la fuoriuscita di nuovi documenti, e quindi la storia purtroppo è sempre, la vediamo sempre come un, come posso dire, è un essere vivente la storia, esatto, cambia, invece viene vista come no, è così e basta, non cambia. Come una verità assoluta, mentre invece è quella, racconto da parte di qualcuno, se è supportato da prove, testimonianze, documentazione, è una cosa, se è semplicemente un racconto, è una cosa diversa. Ecco, come potrebbe cambiare, no, la storia, se alla fine uscisse fuori che effettivamente Hitler era sopravvissuto, era scappato, dove soprattutto è riuscito a sottrarsi alla giustizia? Allora, la storia, oramai si è dipanata, cambierebbe poco, quello che cambierebbe sono i giudizi e le interpretazioni, anche la comprensione di quello che poi è accaduto dopo, perché, se uno scappa da, la Berlino assediata, i sovietici erano a 100 metri dal bunker, quando li sarebbe suicidato, allora, se uno scappa dalla Berlino assediata dall'Europa occupata dai nemici, vuol dire, non uno qualsiasi, Adolf Hitler, vuol dire che hai avuto la complicità di qualcuno, perché non lo fai da solo, immaginiamo, se dovessimo trasferirli in un'immagine di oggi, immaginiamo due persone famosissime, non so, Messi e Cristiano Ronaldo, che insieme decidono di attraversare l'Europa in macchina, con tutti i paparazzi del mondo che gli danno la caccia e chiunque che li incontra, che li riconosce, senza farsi beccare, senza farsi riconoscere a nessuno, è praticamente impossibile, cioè a meno che non c'è qualcuno che ti prende e ti porta fuori dall'Europa in qualche modo, e questo è quello che è successo, allora, visto che una cosa del genere non si può dire, perché c'era il cattivo e c'erano i buoni, ma se i buoni iniziano a dare una mano al cattivo vuol dire che c'è qualche buono che non è proprio esattamente buono, insomma, e magari deve pure spiegare i motivi per cui ha dato una mano e quindi spiegando i motivi si incominciano a capire molte cose del dopoguerra, perché chi ha aiutato la fuga di Hitler è colui che fondò, che avrebbe fondato qualche anno dopo la CIA e che ne è stato il principale direttore, il più potente e più importante direttore della sua storia, quindi stiamo parlando del cuore del potere degli Stati Uniti, Allora, se il cuore del potere degli Stati Uniti con anche, diciamo, qualche aiuto britannico hanno fatto scappare il mostro, perché Hitler era il mostro, l'hanno fatto non solo sopravvivere, ma soprattutto scappare e quindi non sottoporlo alla giustizia, come giustamente ricordato, ci sono molte cose da spiegare e quindi vuol dire che il dopoguerra non è stato così come ci hanno raccontato, perché il dopoguerra è stato gestito da colui che era amico di Adolf Hitler, per conto nostro, cioè per conto dell'Occidente, quindi l'Occidente in qualche modo era da quella parte, anche se non lo eravamo noi, però lo era il potere, quello che insomma controllava tutto quanto l'Occidente e a quel punto bisogna anche spiegare come è avvenuta questa fuga, se erano coinvolti altri personaggi, chi erano questi altri personaggi e andando a raccontare queste cose, perché nel libro si racconta tutto questo, c'è buona parte del libro che parla di quello che è accaduto prima, cioè dell'organizzazione della fuga e se si va a vedere quello veramente si capiscono tante cose della storia futura, perché c'è un personaggio per esempio oltre Allen Dulles che è appunto colui che fondò la CIA e quant'altro, c'è un personaggio che ha partecipato a queste trattative tra lui, tra Dulles e il numero due del nazismo che era Bormann e tutti quanti i gerarchi nazisti e questo personaggio era un italiano perché anche i fascisti volevano, anche Mussolini volevano aver salvare la pelle e scappare via, quindi visto che erano alleati dicevano organizziamo questa fuga tutti insieme infatti Mussolini ci ha provato lui non gli è riuscita la cosa perché sono beccato prima dal confine svizzero ma c'era appunto una persona incaricata da Mussolini per partecipare alle trattative per la parte italiana e questa persona era Licio Gelli che all'epoca era un ufficiale della Repubblica di Salò allora Gelli è stato a contatto, stretto contatto per due anni con colui che sarebbe diventato il dominatore assoluto della CIA con tutti i gerarchi nazisti che poi sono sopravvissuti che hanno formato un'organizzazione che si chiama Odessa che insomma hanno influito sulle vite di tutto il mondo e con anche il potere economico e finanziario di alcune multinazionali e banche degli Stati Uniti il passaggio logico successivo è Gelli è diventato quello che è diventato grazie a questo questa trattativa ha permesso a Gelli di diventare Licio Gelli e nel corso di queste trattative è stato stabilito per esempio la nascita di Gladio che è l'organizzazione che è entrata della Nato che è entrata in tutte le stragi gli assassini il terrorismo qualsiasi cosa brutta sia accaduta colpi di Stato sia accaduta in Italia nel dopoguerra e non solo in Italia in tutto il mondo comprese le stragi di mafia Gladio alle sue impronte perfino le stragi di mafia e tutto questo è accaduto mentre trattavano la fuga di Adolf Hitler ci sono tantissime cose che si spiegano della storia successiva se si comprende quello diciamo che è un nodo fondamentale poi alla fine sì ecco tra l'altro l'idea che i vertici del Reich avessero un piano di fuga non è neanche poi così sbagliata voglio dire a un certo punto vedendo come andavano le cose qualcuno avrà pensato al da farsi e infatti io lei riporta le parole dell'ambasciatore olandese a Washington Alexander Ludon che dice appunto basta leggere i giornali una cosa più semplice e banale dell'epoca dell'epoca sì oggi oggi lasciamo stare insomma basta leggere i giornali la cosa più banale anche in un certo senso ecco e tra l'altro sempre Ludon dice spariranno per un po' e poi scateneranno un nuovo conflitto ora in tempi moderni come dicevamo prima magari sarebbe stato tacciato di complotazione autismo e quindi messo da parte però su quali basi Ludon diceva questa faceva queste affermazioni e soprattutto qual è il nuovo conflitto di cui parlava allora le basi perché appunto è una persona che si informava conosceva poi conosceva personalmente tantissime persone considerate che l'Olanda era occupata dai nazisti quindi non era stiamo parlando del periodo durante la seconda guerra mondiale quindi l'Olanda era un protettorato tedesco a tutti gli effetti quindi aveva rapporti con questi personaggi quale conflitto beh ovviamente col senno di poi le cose sono andate magari alcune cose diversamente all'epoca uno come quando adesso si sta facendo qualche cosa si immagina che accadrà qualcosa poi magari accadono altre cose la sua idea era che sarebbe ripartito in qualche modo la guerra forse non sapendo perché non lo poteva immaginare che il mondo si stava spaccando in due attraverso un accordo che c'era proprio tra i sovietici e l'occidente e questo mondo spaccato in due avrebbe provocato decine centinaia di conflitti e il conflitto diciamo peggiore che c'è stato in realtà è stata una sorta di guerra non convenzionale perché è stata una guerra che si è stata attraverso atti di terrorismo attraverso colpi di stato attraverso squadroni della morte attraverso sequestre di persone e così via che ha inciso profondamente nella storia del dopoguerra di tutto il mondo perché l'organizzazione che è nata dalla fuga che si chiama Odessa che è un'organizzazione formalmente di XSS ma in realtà che era un'organizzazione messa su dai britannici in questo caso dal Regno Unito per far sì che tutti questi nazisti scappati avesse una funzione antisovietica anticomunista e Odessa ha veramente portato la morte ovunque nel mondo e non solo durante la guerra fredda non solo fino alla caduta del muro di Berlino io in un altro libro che è un po' la persecuzione del libro su Hitler che è uscito all'inizio di quest'anno che si chiama Quarto Reich racconto della parabola di Odessa e l'ultimo un intero ultimo capitolo racconto la più grande impresa che ha fatto Odessa che è un'impresa molto recente risale al 2013-2014 ovvero il colpo di Stato in Ucraina se uno va a vedere le carte anche qui le carte le testimonianze del colpo di Stato in Ucraina trova le impronte dei nazisti ovunque non a caso quattro ben quattro ministri del governo del nuovo governo in Ucraina subito dopo il colpo di Stato nel 2014 erano dichiaratamente nazisti però dicevano per me Hitler è stata la persona che io ammiro di più al mondo quattro ministri tra cui il ministro all'interno erano dichiaratamente nazisti e Odessa ha compiuto una cosa straordinaria cioè un'organizzazione di ex nazisti o di estrema destra e così via riesce a compiere un colpo di Stato in piena Europa facendolo passare per rivoluzione facendo sì che tutto il mondo se la prendesse con un paese confinante cioè la Russia è una cosa meravigliosa da riuscire a fare per guerre se tutte queste non sono guerre se tutta questa non è morte e non è distruzione non saprei che cosa certo tornando ai personaggi chiave del libro di cui lei le parla ecco quali sono i personaggi chiave che lei che ruotano intorno a Hitler e che potrebbero averne aiutato la fuga allora la fuga viene decisa da due persone immagino con il consenso di Adolf Hitler perché dubito che non fossero non l'avessero consultato queste due persone sono Borman che che era il segretario di Hitler e presidente del partito nazional socialista quindi del partito nazista e poi Himmler che era il capo delle SS queste due persone si incontrano in nell'ufficio di Himmler a Monaco di Baviera nell'autunno del 42 addirittura cosa era caduto nel frattempo perché era in piena guerra si incontrano per fare che loro stabiliscono che la guerra è persa nell'autunno del 42 nell'autunno del 42 c'era già stata la sconfitta di El Alamein in Africa e quindi le truppe italiane tedesche stavano rovinosamente ritirandosi dall'Africa nel 1942 era stata già persa la battaglia d'Inghilterra era stata le truppe a est non erano riuscite a sfondare a Leningrado che era sotto assedio ma non non riuscivano a entrare erano arrivate alle porte di Mosca ma non erano riuscite a conquistare Mosca erano arrivate a sud a Stalingrado e stavano venendo disintegrate l'intero corpo d'armata tedesco a Stalingrado stava venendo disintegrato dalla morsa a cui erano sottoposti dall'armata rossa e quindi stavano soccombendo e la battaglia di Stalingrado forse è stata la battaglia più importante della seconda guerra mondiale loro lucidamente hanno detto beh non adesso ma oramai abbiamo perso se lo dicono chiaramente e dicono anche da questo momento in poi dobbiamo lavorare per salvare il Reich che il Reich non è la Germania il Reich nella loro testa è l'idea cioè l'idea del nazismo l'idea del nazionalsocialismo di cui ovviamente Hitler era il vate assoluto e quindi andava salvato in qualche modo ma anche tutti gli altri gerarchi perché giustamente nessuno voleva né morire né finire in galera né finire in piccato da qualche parte quindi si inizia a organizzare questa cosa cioè questo in quel momento ci si rende conto della realtà e loro addirittura mettono su un vero e proprio ministero parallelo ovviamente segreto perché non potevano dirlo in giro che stavano per scappare manca i tedeschi e quindi questo ministero parallelo di centinaia di persone per organizzare una cosa complessissima perché poi la fuga non è solo la fuga di Adolf Hitler e dei suoi gerarchi è la fuga di oltre un milione di persone da tutta quanta Europa di nazisti fascisti che vengono da tutti i paesi d'Europa persone che poi in effetti fuggono perché diversi nazisti poi trovarono riparo in Sud America quindi perché è impossibile pensare che una persona come Hitler che era il più importante all'interno dell'organizzazione non possa essere invece riuscito lui stesso a fuggire tra l'altro poi so che Hitler aveva diversi sosia anche ma questo ce l'hanno tantissimi diciamo capi di stato per una questione di sicurezza in alcuni casi non quando devono fattenere discorsi ma che ne so devono andare in un posto particolarmente pericoloso devono solo farsi vedere mandano il loro sosia Hitler ne aveva 7-8 ma insomma registrati ufficialmente si conosce il loro nome le professioni erano quasi tutti attori tant'è che subito dopo la morte di Hitler quindi siamo il primo maggio quindi il giorno dopo viene trovato il cadavere di Hitler dentro la cancelleria ci sono anche le foto di questa cosa qui del ritrovamento di questo cadavere e tutti a dire ecco il corpo di Hitler poi gli stessi sovietici e poi tutti quanti in quel caso gli credono dicono no questo è un sosia e riconoscono pure chi era questa persona era un attore adesso non ricordo come si chiamava quindi Hitler aveva molti sosia ecco come dicevamo prima parlare di queste tesi è sempre poi un po' complicato perché la storia ufficiale tende a non riconoscerle a deriderle come vediamo purtroppo avvenire anche in altri ambiti lei ha trovato difficoltà a fare queste ricerche ha trovato delle resistenze come si è mosso? difficoltà no perché in questi casi ci sono anche alcune testimonianze però nella maggior parte dei casi sono prove documentali o anche testimonianze documentali magari anche interviste rilasciate anni fa in audio in video anche cose di questo genere quindi in realtà tutte quante cose che uno recupera diciamo che la cosa che mi ha sorpreso è la facilità nel trovare queste informazioni e l'enorme quantità di informazioni che si trovano sull'argomento e mi ha sorpreso perché pensavo sarà complicato perché insomma se c'è una verità ufficiale questi hanno raccontato una verità ufficiale basatandosi su tantissime prove quindi eliminando o rendendo marginali le altre e invece ho scoperto che la verità ufficiale si basa su zero prove fisiche zero e su solo tre testimonianze peraltro indirette ciascuno di tre dice una cosa diversa dall'altra e ciascuno di tre una volta liberato ha smentito quello che aveva testimoniato quindi sul nulla la storia ufficiale è stata scritta sul nulla quindi diciamo meglio del nulla c'è qualsiasi cosa certo beh incredibile allora Franco ci avviamo alla fine di questa intervista se i nostri telespettatori o insomma gli interessati volessero acquistare questo libro io so che è molto complicato entrare in possesso del tuo libro si è molto complicato non perché faccio il prezioso come possono fare è molto complicato per una scelta vera e propria cioè io ho deciso di in un mondo in cui ci si sta scollando dalla realtà perché si sta più sui social che nel più su internet che nella vita vera di riappropriarmi del cioè eliminare tutto quello che è disintermediazione tra cui anche Amazon e i siti di e-commerce e tutto quanto il resto con librerie comprese voglio entro in contatto con i miei lettori io conosco tutte le persone che acquisto i miei libri anche perché poi gli faccio la dedica ognuno che acquista il mio libro lo acquista con la dedica e glielo spedisco di persona allora come si fa bisogna scrivermi un'email alla mia email personale francofracassi1 chiocciolagmail.com uno al numero francofracassi1 chiocciolagmail.com voi mi scrivete io vi spiegherò come si fa ad acquistarlo e vi illustrerò anche tutte le altre cose che sono allegate al libro perché quando faccio queste campagne promozionali in realtà le arricchisco per chi vuole ovviamente perché probabilmente il costo sale le arricchisco di tantissime cose allora insieme a Hitler 1945 si può comprare il quarto reich per chi non l'avesse letto insomma perché che è la prosecuzione naturale di Hitler nel 1945 si può comprare un altro libro però scusami se ti interrompo è la prosecuzione però è uscito prima si può comprare un altro libro che si chiama Hitler uccidete quei tre che è un libro di storia anche in questo caso un saggio che racconta della Teheran quindi la Persia del 1943 un luogo di spie tipo Casablanca insomma del film in cui c'è un vertice tra Roosevelt Stalin e Churchill in cui si stabilirà lo sbarco in Normandia e un inizio di divisione del mondo e Hitler viene a sapere di questa cosa e invia i suoi sicari per farlo fuori per far fuori i tre i tre grandi perché pensa magari vinco la guerra in questa maniera e quindi è una vera e prova spy story che si basa molto anche sulla documentazione inedita del segretario di Stalin dei suoi diari ed è una storia di queste proprio da film insomma poi in più volendo ci sono tre interviste che si possono prendere in video sempre in questo pacchetto ci sono interviste di 50 minuti l'una quindi insomma sono quasi documentari una è l'ultima intervista in vita a Licio Gelli l'altra è non so se sia l'ultima intervista in vita ma insomma poco ci manca a Stefano delle Chiaie che è stato il più importante fascista del dopoguerra nel mondo è stato convolto in tutto dalle stragi italiane alle dittature sudamericane a qualsiasi cosa c'è sempre di mezzo l'ora e poi un'intervista a Roberto Fiore che non è che ne rilasci tanto in circolazione e racconta molto di forza nuova il partito che lui ha fondato che dirige infine c'è una cosa che è un po' strampalata quasi da matto ma siamo sotto Natale un libro di favole quindi passiamo lo so però lo so che non c'entra assolutamente nulla so che non c'entra assolutamente nulla però ho pensato a me la cosa che piace di più è scrivere favole che ovviamente non è che le inseriscono i libri i libri sono seri però e quindi ho pensato vabbè sotto Natale per chi vuole c'è anche questa botta di divertimento perché molte sono favole anzi tutte quante sono favole anche molto per adulti cioè fanno ridere spero bene allora Franco io ti ringrazio insomma per essere stato qui con noi per averci raccontato il tuo ultimo libro e poi anche le altre cose che hai fatto e ci rivedremo sicuramente presto qui a Biu molto volentieri e grazie a voi per avermi invitato bene e io vi invito a restare su Biu Biu e a continuare a seguire la nostra programmazione a 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 Grazie a tutti.